Si nascondeva nei pressi della propria abitazione a Perticano, a pochi centinaia di metri da Pasce Lupo. Da lì i carabinieri umbrio-marchigiani hanno trasferito Sebastiano Di Masi, 55 anni muratore calabrese, nella caserma di Sassoferrato, a disposizione del PM Serena Bizzarri, chiamata a riscostruire esattamente quanto avvenuto sabato nel piccolo centro marchigiano a confine con l'Umbria, quando un professore 48enne, Alessandro Vitaletti, è stato ucciso con numerosi coltellati in una stazione di servizio. A carico del Di Masi, fin dalle prime ore successive all'omicidio, pendeva un provvedimento di fermo. L'uomo avrebbe agito perché, geloso del docente, è ritenuto colpevole di aver intrecciato una relazione con l'ex moglie, a sua volta da lui ripetutamente minacciata, tanto che nel dicembre scorso l'aveva formalmente denunciato. Il presunto assassino è Sebastiano Di Masi, muratore calabrese di 55 anni, residente a Scheggia, a pochi chilometri di distanza dal piazzale di Via Buozia, Sassoferrato, dove il docente, stimato da tutti, è stato aggredito come in un villaggio da far west al grido di ti ammazzo, ti ammazzo e massacrato con 22-23 colpi di arma da taglio. Inutili soccorsi, Vitaletti, separato e padre di due figli minorenni, è deceduto un'ora dopo nell'ospedale di Fabriano. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri Sassoferrato e Fabriano e dal nucleo investigativo di Ancona, l'incontro tra il docente e Di Masi sarebbe avvenuto un'ora e mezza dopo il tentativo del muratore di entrare in casa dell'ex moglie. Lei non gli aveva aperto la porta, diglia poco la furia dell'uomo ed è flagrata contro Vitaletti. Nelle settimane scorse i militari dell'arma avevano segnalato all'autorità giudiziaria i comportamenti minacciosi del muratore nei confronti dell'ex compagna e verosimilmente a breve sarebbe scattato un divieto di avvicinamento al nucleo familiare. Dopo una notte di ricerca e il provvedimento di fermo per omicidio volontario firmato dal PM Bizzarri, l'uomo è stato rintracciato nei pressi di casa sua a Scheggia. Probabilmente stava per andare a prendere qualche indumento per proseguire la fuga. Portato in caserma a Sassoferrato è stato interrogato dal magistrato alla presenza di un difensore d'ufficio.